Musica Duro colpo alla piazza dello spaccio di Priolo Gargallo. La Polizia di Stato ha sequestrato un importante quantitativo di cocaina e 15.000 euro in contanti. Gli uomini del commissariato diretti dal dottor Sergio Leo hanno arrestato due fratelli di 25 e 23 anni, entrambi residenti a Priolo. Nei pressi di via Reno hanno notato i due fratelli con fare sospetto e malcelando un certo nervosismo uscire da un'abitazione del padre e che si allontanavano a bordo di un ciclomotore. I due, alla vista della Polizia, hanno cercato di fuggire e non si sono fermati all'alte degli agenti. I due raggiunti e bloccati sono stati perquisiti. Avevano appunto la somma di 15.000 euro e dosso, suddivise in banconote di vario taglio, materiale per il confezionamento e un coltello che presentava residui di hashish. Inoltre, all'interno di un vano posto al piano terra dello stesso condominio, sono stati rinvenuti 184 involucri di cocaina, un involucro di carta alluminio contenente sostanze stupefacente di hashish, per un totale di 119 grammi di cocaina e 8 di hashish. I due giovani sono stati tratti in arresto e condotti in carcere con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. È stato arrestato un giovane per detenzione legale di pistola ed è stato denunciato un altro per possesso e spaccio di droga. Gli agenti della squadra mobile, dopo indagini di polizia, hanno arrestato un giovane di 30 anni residente a Siriacusa. Aveva con sé un'arma da sparo clandestina e di munizionamento. A seguito di una perquisizione domiciliare effettuata a casa dell'uomo, gli investigatori hanno rinvenuto l'arma e un caricatore rifornito con 5 cartucce. L'uomo, che convive nell'abitazione col fratello, attualmente agli arresti domiciliari per reati contro gli stupefacenti, è stato sottoposto ai domiciliari. Mentre nel corso ancora di controlli su strada nei pressi di Piale dei Comuni, hanno sorpreso gli agenti delle volanti. Un giovane di 24 anni in possesso di 5 dosi di crack, 15 dosi di cocaina e 190 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato per possesso ai fini dello spaccio di droga. Restano ancora alti i numeri dei contagi in Sicilia, dove il bollettino emesso dalla regione siciliana per il 30 gennaio riporta 6.141 casi negli ultimi 24 ore. Calano però il numero dei letti occupati in terapia intensiva, meno 4 restano 140. Così come calano i ricoveri nei reparti Covid, meno 10 sono attualmente 1.610. Dei 242.444 positivi attualmente nell'isola, 27 i decessi. La provincia di Siracusa ancora registra 610 nuovi casi di positività nelle precedenti ultime 24 ore. Intanto da domani scattono le nuove regole per un Green Pass che da nove mesi avrà durata di sei mesi e ancora sarà utile per entrare nella maggior parte degli uffici o dei negozi. Si potrà avere libero accesso soltanto per i generi alimentari, cibo per gli animali, carburante, negozi di vendita a articoli igienico-sanitarie, farmacie, parafarmacie e ottiche. Ma soprattutto arriverà una stretta sugli over 50 che se non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio, appunto, si parla di circa un milione e mezzo di persone, dovranno pagare una multa, una tantum di 100 euro. Saranno sanzionati direttamente con controlli a campione e le multe inviate dall'Agenzia delle Entrate su segnalazione del Ministero della Salute. Dal 15 febbraio in poi entrerà in vigore invece il Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50 e chi verrà sorpreso senza certificato rischia una multa che vada ai 600 e ai 1.500 euro. Mario Bonomo, coordinatore provinciale di Movimento Nuova Autonomia attacca la Regione, dice hanno dimenticato la sanità della zona sud. Sto a essere fatto davanti al perdurare del silenzio della politica regionale sulla drammatica situazione della sanità nella zona sud della provincia. Mi chiedo come si possa tollerare che il pronto soccorso dell'ospedale di Noto sia aperto solo dalle 8 alle 20 con la presenza di un solo medico per il reparto di ortopedia dello stesso nosocomio disponga di un solo anestesista in guardia attiva dalle 8 alle 14 per sta l'operatoria in reperibilità dalle 14 alle 8 del mattino. Per non parlare delle tante troppe ingiustificate disfunzioni del punto territoriale d'emergenza di Pachino della guardia medica non attivata né in città né a Marzamemi e solo l'impegno della sindaca Petrolito ha portato all'apertura di un punto di primo intervento. Disfunzioni che incidono sulla qualità della vita dei cittadini, secondo Mario Bonomo. Ancora più evidenti e intollerabili per l'engente invece risorse e attenzione riservate alla sanità in provincia di Catania. I concorsi poi per centinaia di posti in una struttura di nuova concessione hanno attirato professionalità e svuotato le altre province di risorse umane al punto che l'ASP di Siracusa è a corto di anestesisti. La mia totale solidarietà va dunque alla dirigenza dell'ASP e ai medici e infermieri che fanno i salti mortali per garantire assistenza adeguata negli ospedali del Siracusano. Sulla situazione del polo petrolchimico di Priolo interviene il segretario della FIOM CGL di Siracusa Antonio Recano il quale sottolinea che le voci di una possibile vendita di lucoil e norvegesi della Equinor sono solo il preludio di un processo che scaricherà gli effetti negativi di un modello industriale sull'occupazione e sull'economia dell'intero territorio. La mancanza di interventi straordinari e di obiettivi chiari diventa, per una connessione strutturale che caratterizza il più grande petrolchimico d'Europa, l'innesco per un effetto domino che rischierebbe di far scomparire un settore azzerando oltre 10.000 posti di lavoro e una parte consistente del PIL regionale. Occorre un nuovo modello. Recano ricorda come all'inizio degli anni Ottanta il mercato industriale si orientò verso la candidatura dell'area di Punta Cugno, per esempio, prospicente la Rade di Augusta come sito industriale di riferimento per la costruzione di piatteforme petrolifere offshore o ancora come la Marina di Melilli, grazie al gruppo Belleio e ancora al gruppo Siteco realizzò importanti commesse. Ecco, le due aree di Punta Cugno e Marina di Melilli hanno rappresentato la possibilità di costruire un grande polo metanoilcanico avanzato, moderno e indipendente dal polo petrolchimico. che oggi sarebbe proiettato in una giusta visione green di economia circolare. Queste aree possono intercettare investimenti importanti, devono essere riportate allo spirito originario e costruire un grande progetto industriale che in chiave green dia centralità ad una nuova ipotesi industriale. Significa realizzare le bonifiche per la FIOM CGL, la riqualificazione degli impianti dismessi, realizzare gli investimenti per riattivare le due aree, riconvertire gli impianti petrolchimiche per la produzione di carburanti meno inquinanti, oppure Priolo, dice ancora il segretario FIOM Siracusa, precipiterà nell'oblio. Si prepara il santuario della Madonna delle Lacrime a vivere la Candelora, la festa della presentazione di Gesù al Tempio con la benedizione delle candele sarà preseduta dall'arcivescovo Monsignor Francesco Lomanto con la partecipazione di religiosi e religiose della Diocesi, dei sacerdoti, dei diaconi e degli federi del santuario. Lunedì 7 invece è messa in suffraggio Lisetta Piccione, testimone oculare della lacrimazione della Madonna a Siracusa nel suo secondo anniversario della nascita al cielo. Ancora sabato 12 febbraio si celebrerà la trentesima giornata mondiale degli ammalati con la concelebrazione eucaristica alle ore 18. Parteciperanno sacerdoti e diaconi, volontari e volontarie delle associazioni AVO, Avulus, Bambi e dell'Unitalsi sotto sezione di Siracusa. Gli operatori della Pastorale alla Salute insieme ai fedeli reciteranno l'atto di affidamento alla Madonna delle Lacrime in comunione con gli ammalati. Il tutto è anche visibile tramite lo streaming del santuario al sito www.madonnadellelacrime.it La capacità di ascoltare la società è quanto mai preziosa di questo tempo ferito dalla lunga pandemia dalla sfiducia accumulata in precedenza verso l'informazione ufficiale ha causato anche un'infodemia dentro la quale si fatica a rendere sempre più credibile e trasparente il mondo dell'informazione. Lo ha detto il Delegato Episcopale per le Comunicazioni Sociali e la Cultura della Cesi, Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, nell'Omelia della Celebrazione Eucaristica che si è svolta al Santuario Madonna delle Lacrime dove giornalisti aderenti all'Unione Cattolica Stampa Italiana hanno svolto la giornata regionale per festeggiare San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e comunicatori. La giornata regionale è stata promossa e organizzata dall'Ufficio Comunicazioni Sociali e Cultura dell'Arcidiocesi di Siracusa, dall'UNX Sicilia e da Siracusa e dalla Sostampa Siracusa dal settimanale Cattolico Cammino col sostegno dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. La giornata è iniziata con un seminario di formazione per i giornalisti che si è svolto nel Stagone Ettore e Baranzini sul tema La nuova missione dei giornalisti, narrare nell'era del metaverso che è il termine cognato dallo scrittore Neil Stephenson descritto come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar.